Il pubblico lo ha a lungo chiamato e lui ha risposto alla grande. Questo è il primo gol di Maradona al San Paolo e in una partita ufficiale. Era la stagione 1984-85 quando il Pibede Oro arrivò in Italia e la sua prima partita ufficiale fu in Coppa Italia contro l'Arezzo. Era infatti il 22 agosto e la gara si disputava al San Paolo di Napoli. Quella partita segnò l'esordio ufficiale di Maradona con la maglia azzurra. Al ventesimo minuto il numero 10 argentino davanti a 75.000 tifosi trafisse così Pino Pellicano con una punizione calciata da 30 metri. Il sinistro di Maradona si fa largo nella fitta schiera di calciatori e va a centrare con millimetrica precisione l'angolo isaggiungibile dal furbravo Pellicano. Per lì c'era un po' rimasto male ma oggi a distanza di anni dico di essere orgoglioso di aver preso il primo gol in Italia dal più grande giocatore che c'è stato in tutti i tempi nel mondo perché penso che Maradona sia stato veramente un grande. Quindi per me è stata una soddisfazione aver preso gol da lui e poi tra l'altro il primo gol ufficiale in Italia da Maradona segnato proprio a me. La partita finì così 4-1 per i partenopei ma il primo gol in Italia del Pibede Oro in realtà fu un altro proprio al comunale. Il fenomeno argentino era infatti appena arrivato nel nostro paese ed il Napoli giocò un amichevole di lusso. L'Arezzo all'epoca militava in Serie B e proprio qui il Pibede Oro mise a segno la sua prima doppietta. Era al massimo, era uno spettacolo vederlo giocare e uno spettacolo incontrarlo in campo perché ti rendevi conto che c'aveva un qualcosa più di tutti gli altri. Oggi il mondo dello sport ma non solo ricorda il giocatore più forte del secolo scorso che se ne è andato a 60 anni stroncato da un arresto cardiaco. Non dava l'impressione di essere un uomo solo di calcio, lui riusciva anche fuori dal calcio a farsi voler bene da tutti. Oggi ci sono dei ragazzi che sono nati da pochi anni che non hanno mai visto giocare Maradona però per sentito dire dai genitori, dai nonni vanno su internet a vedere quello che ha fatto Maradona quindi Maradona resterà nei cuori di tante persone a lungo perché ieri se ne è andato ma resterà sempre con noi sicuramente.